Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simon88 e lui è? Filippo! Siamo tornati a fare un altro video di che cosa Filippo? ZappoTai! L'album di? ZappoTai! E l'abbiamo? ZappoTai! L'abbiamo finito ragazzi, l'abbiamo completato tutto. Avevamo già fatto un video dove mettevamo dentro le carte, ti ricordi? Sì! E adesso noi vi facciamo vedere il nostro album completo ragazzi. Con tutte le 162 carte, più le limited edition che abbiamo preso sfuse. Vero Filippo? Zappo! Allora, cosa devono fare i nostri amici? Mettere sempre un like e un'iscrizione, così non perderanno questi tipi di video se gli piacciono, perché poi ne faremo altri, vero Filippo? Sì! Spacchettamenti, recensioni e tanto altro, quindi seguiteci per altri video divertenti. Ma adesso noi cambiamo l'inquadratura e vi facciamo vedere l'album di ZappoTai! Andiamo! No! Allora ragazzi, abbiamo fatto il cambio di carattura, vero Filippo? Sì! Adesso facciamo vedere l'album di ZappoTai! Con tutte le figurine complete! Allora, questa è la copertina, guardate che bella, molto bella! Official Card Collection! Allora, qui abbiamo, cosa c'è l'album di ZappoTai qua? Tutte quelle che ci sono! Tutte quelle che ci sono? Più queste qua! Allora, qui abbiamo Stumble Guys! La ragazza! La ragazza! Il ladro! Il ladro! Quello che va a tutta la terra! Il minatore! Qua abbiamo il pompiere! Il pompiere! La ragazza che abbiamo messo! Questa! E una minuta! E poi la minuta abbiamo messo! Sono le ultime due che ci sono servite per completare l'album! Te ne sono arrivate! No, allora, poi abbiamo qua! È arrivata l'ultima su! Poi abbiamo anche queste qua! Guardate qua il pagliaccio! Non diciamo tutti i nomi perché sennò ragazzi qua è lungo, il video diventa lungo! Facciamo vedere una carrellata veloce di tutte quelle che abbiamo! Qua si distinguono anche le non comuni! Le verdi sono le non comuni! Ma giriamo! Poi qua abbiamo quelle blu che sono le rare! E poi le ultime sono le rosse! Le rosse! Poi abbiamo qua le rare! Quale è che ti piace di più di questa pagina? Questa! Questa è Pinocchio! Poi abbiamo qua... Mostro! Mostro! Poi abbiamo qua ancora le rare! Mi piace molto! Con tutto completo! Poi abbiamo qua le epiche! Le viola e le viola sono le epiche! E due blu! E due blu! Due le rare! Qua sono le epiche! Se c'è scritto qua! Qua abbiamo l'astronauta! Poi abbiamo qua ancora l'epica! Tutto completo! Questo è lo Yeti! Qua abbiamo il demone! Si! Qua abbiamo ancora le epiche! Qua è qua il nostro... Pulcino! Pulcino argentato! E due! Tre! Qua abbiamo il leone! La tigre! Molto bene! Vero ti è piaciuto completarlo? Poi abbiamo fatto degli scambi per completarlo! Perché se no comprare le bustine non lo finivamo! E troveramo tutti i doppi! Troveramo tutti i doppi! Poi abbiamo ancora l'epica! Allora ragazzi guardate! Qua abbiamo ancora l'epica e qua iniziano le leggendarie! Quelle arancioni sono le leggendarie! Vabbè! Se chiamo! Sono le leggendarie qua! Gialle! Quelle gialle! Arancioni gialle! Cioè qua sono un po' gialle con un po' arancioni! Le leggendarie! Non sono le leggendarie? Si sono le leggendarie! C'è scritto qua guarda! Legendarie! E di qua? Legendarie c'è scritto! Si vede il tuo cibo di pesante! Poi qua sotto ricordiamo che c'era scritto il numerino per inserire le carte! Quindi non potevate sbagliare! Qua abbiamo il Babbo Natale! Abbiamo? Babbo Natale ti uccide tutti! Poi abbiamo qua anche il toro! Ma cos'è? No cinghiale! Scusate! Scusate! Questo è un cinghiale! Eh! Ci diamo facile! Qua ci sono due aboli! Che questi due sembrano uguali questi due però sono diversi! Uno c'è la maglia striscia e questa c'è la diversa! Arope e bevelo bacio! Questo è Super Gun e Super Girl! E poi iniziano le speciali! Mumia! La mumia! Un po' il pixel! Stambul! Mac! Qua Amazon! Ah! Un uomo strano questi! Questi sono gli stati difficili! Questa l'abbiamo scambiato è vero? Eh! Questo ci... Questo ci... Dal pugno! Questo dal pugno! Questo dal pugno! Questo è la tazza celice! Questo è quello dai pugni! Boxer! Come si chiama adesso? Non mi ricordo! Il boxe! Questo sono le leggendarie e speciali! Questo è bello guavo! Guardate la tazza celice! Guarda questo qua! Questo c'è la banana! Banana! Quella che piace a Filippo vero? Sì! Se l'ha fatto a rivelato! Poi abbiamo il demone! Poi abbiamo questo qua! Il leone! Il leone! Poi abbiamo... L'uomo invisibile! L'uomo invisibile! Lo scheletro! Ah vabbè! L'astronauta! E questo è lo zombie! Che ci vede il cervello! Che vede il cervello! Qua ci ha il luce! Luce! Qua abbiamo altri! Ah lo canzio! Qua abbiamo il fantasma! E qua arrivano le speciali rosse! Guarda questa! Dov'è? Questa è la tenea! Pirata! Qua abbiamo il pirata! Il drago! Poi abbiamo qua il se... Qua è quello di Dijuno! Molto! E qua ragazzi! Adesso vi faccio vedere! Abbiamo le limited edition! Vedete qua si distinguono perché qua! C'è scritto! Limited... C'è scritto! Adesso riesce a mettere a fuoco! Sì! Limited edition ragazzi! C'è scritto qua! C'è il bollino! Questo è Mr. Stumble! Queste! Queste si trovavano nei pacchetti speciali! Quelli da 8 euro ragazzi! Eh? Bisognava comprare il box! È vero Filippo? Sì! Esatto! Erano 4 box! Si trovavano 4 carte diverse! Non le abbiamo prese tutti! Vero? Sì! Eh? 2, 2, 2, 2, 3! Poi ci hanno mandato questa! Perché nel box abbiamo trovato doppia! E questa ce l'abbiamo fatta arrivare dal sito! Questa qua la banana! Si perché vedi abbiamo trovato due banane uguali! I due ne avevamo uguali! E ci mancava questa che poi ce l'abbiamo fatta arrivare! Ho guardato la buccia e l'ho trovata! Ok! Qua ci sono due buchi! E queste sono due buchi! Perché le carte da collezionare erano 16! Allora ragazzi queste erano le 162 carte! 154! 154! 152! 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 Finito! Completato! Allora ragazzi abbiamo fatto vedere l'album di Istanbul Guys! Vero? Si! Ti è piaciuto completarlo? Si! L'abbiamo scambiato! L'abbiamo scambiato facendo le spedizioni su quali gruppi e l'abbiamo finito! Perché Filippo lo voleva completare! Vero? Vero! Quindi siamo stati un po' veloci a farvelo vedere! Non abbiamo detto tutti i nomi perché sono un po' nomi difficili! Spero che questo video vi sia piaciuto e anche l'album che vi piace! Noi ci siamo divertiti a completarlo e a scambiare perché abbiamo scambiato per completarlo! Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, vero Filippo? Con altre cose da aprire e spacchettare e farle vedere! Ricorda ancora di mettere un like e un'iscrizione! Così non perderai i nostri contenuti ragazzi! Dai saluta Filippo! Ciao! Al prossimo video! Ciao!